Buonasera ad Alessandro Di Battista, bentornato a Piazza Pulita. Buonasera a lei. Senta, certo 50.000 euro di trasporto non so se è un bel affare per il Comune di Roma, ecco, spelacchio, dico. Ora, non so bene, appunto, non conosco bene le cifre, ma oggi siano pure addobbi, comunque, e trasporto, però insomma, guardavo il servizio, cioè è diventato una star internazionale quest'albero, poi in Italia sono diventati 60 milioni, ci sono 60 milioni di agronomi, di esperti, di aghi al centimetro quadrato, non lo so, io ci sono andato ieri a guardarlo anche io, non ho mai visto un albero di Natale. Diciamo che Virginia Raggi non è stata così fortunata, insomma, sugli alberi non è molto fortunata, insomma. No, però mi concede questa battuta, ci sono andato ieri e l'ho visto, l'ho trovato più vivo di Renzi, oltretutto almeno non si muove, spelacchio, invece Renzi si muove e fa danni. Senta, a proposito di Renzi, allora, mi spiega perché, iniziamo dalle banche, mi spiega perché cercare di salvare una banca da parte di un governo, del Presidente del Consiglio, dei suoi ministri, danneggia gli italiani? In che cosa hanno danneggiato gli italiani, secondo il Movimento 5 Stelle, secondo lei, questi movimenti di Matteo Renzi, di Maria Elena Boschi? Di Matteo Renzi, della Boschi, di Carrà e di tutto un giglio magico piuttosto morente. Da dove iniziamo? Presentammo noi la mozione nel 2015 alla Camera, una mozione che parlava di conflitto di interessi. Io ho notato in questi ultimi due anni, appunto, per arrivare alla sua risposta, tanti, tanti membri del governo, diciamo, tanti renziani, si sono occupati nello specifico di una banca che è riconducibile, appunto, a una famiglia. Il fatto che la Boschi non abbia poi ottenuto un risultato specifico sulla banchetta riconducibile della sua famiglia, questo non significa che non vi sia un conflitto di interessi. Cioè, secondo lei, il conflitto di interessi c'è, ma il danno agli italiani qual è? Il danno agli italiani rispetto al tema generale delle banche è stato fatto negli ultimi vent'anni da tutti i governi, come lei sa, ci sono, tra l'altro, i risparmiatori non ci sono in questa storia. Si parla tanto di boschi, e noi per carità facciamo attacchi politici, ma che fine hanno fatto gli interessi dei risparmiatori non si sa. Negli ultimi anni tanti, tanti cittadini hanno perso tutto. Io non dimentico che ci sono stati degli italiani che si sono suicidati per i crack bancari. Il danno agli italiani c'è stato nel momento in cui la politica ha preso possesso anche dell'alta finanza, o viceversa, e in cui gli danni ci sono stati quando alcune banche sono state spolpate da partiti politici o anche da manager senza scrupoli e anche da una scarsa vigilanza da parte di Banca d'Italia, e poi le conseguenze erano pagate tutti i cittadini italiani. Però posso dire una cosa, questa sua analisi, che è molto condivisibile, è un'analisi che in qualche maniera fa anche Matteo Renzi, quando Matteo Renzi dice, beh, ma insomma alla fine questa questione di Banca d'Italia è tutta politica, è tutta politicizzata, si guarda la pagliuzza, il conflitto di interesse che però non ha portato a dei benefici alla famiglia Boschi o a Mariana Boschi, e non si guarda il disastro dei truffati. C'è troppa politica in questa vicenda di Banca d'Italia, non per noi, diciamo, per gli italiani che guardano. Beh, il Movimento 5 Stelle, piaccia o non piaccia, si candida a governare questo Paese. Siamo la prima forza politica nei sondaggi e abbiamo chance appunto di governare il Paese. Renzi oggi parla, ma quando ha governato non ha approvato delle leggi a tutela dei risparmi. Io qui ho il dovere di presentare due proposte, dato che si parla di risparmiatori, due proposte che Renzi avrebbe dovuto fare ma non ha fatto. Per me Visco è responsabile come Banca d'Italia di una mancata vigilanza, di una corretta vigilanza, attenzione, come sono responsabili anche i vertici di Consob e i partiti politici a cominciare dal PD che è immischiato negli affari di Banca Etruria, come abbiamo visto ma anche di MPS. La proposta qual è? La proposta sono due. Uno, il governatore della Banca d'Italia che attualmente viene nominato dal Presidente della Repubblica, sul suggerimento del Presidente del Consiglio che ascolta il Consiglio dei Ministri, il governatore della Banca d'Italia venga votato a larghissima maggioranza tutto il Parlamento. Ci danno dei rivoluzionari per certi versi lo siamo. Quindi sia meno legato alla maggioranza e sia più legato al Parlamento. Esattamente, e così sarebbe la seconda proposta che è fondamentale alla divisione tra le banche d'affare e le banche commerciali. Tanti cittadini mettono i loro risparmi in una banca pensando appunto che la banca faccia la banca quando in realtà con quei soldi la banca fa investimenti in borsa, compra titoli tossici e poi a un certo punto le banche falliscono. Questo non significa tutelare il risparmio che invece la Costituzione vuole tutelare. Per me, con il governo al 5 Stelle, certo chiaramente sono di parte, però queste due proposte consentiranno l'eliminazione totale di questi crack bancari e della perdita di risparmi per i cittadini che sono tanti che hanno perso i loro soldi. Ma scusami, in un ipotetico governo 5 Stelle che cosa sarebbe cambiato? Il bail-in è una legge, una regola europea che è stata votata dagli stati per cui sono i risparmiatori che alla fine pagano per il fallimento delle banche in cui hanno messo i soldi. Il Movimento 5 Stelle non ha votato il bail-in. Però, diciamo, realisticamente, domani andate a governare e vi trovate in questa situazione. Oggi di diverso presentiamo queste due leggi per far sì che Banca d'Italia possa fare una vigilanza seria perché io non mi dimentico... Qualcuno ve la deve votare poi, diciamo. Questo certo, però dipende sempre dalla maggioranza. Io non dimentico che per esempio MPS ha dato soldi a destra a manca agli amici della politica e poi a un certo punto fallisce, arriva al cittadino, pantaloni che ci deve mettere i soldi. Io non mi dimentico che Amato chiamava i vertici, Amato, l'attuale giudice della Corte Costituzionale chiamava i vertici di MPS per chiedere i finanziamenti per il torneo di tennis di Orbetello. Ma così appioggia tanti finanziamenti per gli amici della politica. Queste due proposte riescono a tutelare il risparmio. Poi, il fatto che l'Italia non sia intervenuta con lo Stato, quando invece in Germania e in altri paesi europei sono intervenuti appunto per salvare le banche, questo è responsabilità principalmente di Monti e Tremonti. In generale, sulle dimissioni, perché un sindaco indagato o rinviato a giudizio non si deve dimettere, ne avete anche voi, ne ha il PD, ne hanno tutti, e invece un ministro che non è indagato ma sospettato di conflitto di interessi dovrebbe dimettersi? Sono due cose diverse. Una è una questione politica, infatti noi abbiamo presentato una mozione di sfiducia due anni fa alla Boschia, non è che siamo andati in procura a denunciarla. L'altra sono appunto delle questioni che riguardano magari un avviso di garanzia o ancora di più delle indagini o delle condanne. Il Movimento 5 Stelle ha un codice etico piuttosto stringente, anche il PM di Matteo l'ha elogiato. Per quanto riguarda la vicenda Boschia, è una vicenda, come io le dissi in aula perché feci io il discorso due anni fa, del tutto politica. Un ministro della Repubblica deve essere al di sopra di ogni sospetto e deve, chiaramente, essendo un pubblico ufficiale, servire la Repubblica con disciplina e onore. Nel momento in cui un ministro, che tra l'altro non è competente, perché io voglio dire una cosa che ci riflettevo stamattina, Padoan dovrebbe essere il primo a scandalizzarsi per questi comportamenti della Boschia, perché di fatto è stato scavalcato. Di fatto Padoan ha detto, io non autorizzai altri ministri a parlare della crisi bancaria. Esatto, quindi dovrebbe essere un po' più duro, perché come lei sa, il governatore della Banca d'Italia, articolo 7 del testo unico bancario, può parlare di banche con il ministro dell'Economia e delle Finanze. Che è quello che ha detto Visco in commissione di inchiesta. Esatto, ma questo lo dice il testo unico bancario. E invece la Boschia, che era ministro dei rapporti con il Parlamento, tra l'altro non mi dimentico neanche che disse qualora dovessi perdere il referendum, mollerò la politica sta ancora qua, ma anche questo fa parte della credibilità, perché io Formigli nel 2014 dissi che qualora fossimo arrivati a fine registratura non mi sarei ricandidato e non mi ricandiderò. Francamente sono una persona credibile e lo dicono i fatti. Altri hanno detto delle cose e poi le disattendono. Sulla questione di chi doveva fare cosa e l'eventuale accusa di scavalcamento sentiremo il presidente del PD Orfini che verrà a trovarci e risponderà. A me non sta bene che un ministro della Repubblica, al posto di servire tutta la Repubblica e interessarsi a tutti i crack bancari, abbia fatto il giro delle sette chiese per domandare, per interessarsi su fusioni contro fusioni relative alla banca dove il padre era prima consigliere e poi vicepresidente, lei piccola azionista e il fratello, se non sbaglio dirigente, ma comunque impiegato. A me questo non mi sta bene, perché questo si chiama conflitto di interessi, perché ce l'hanno menata con Berlusconi per vent'anni, quando io stavo lì a fare battaglie contro Berlusconi sul conflitto di interessi, oggi governano loro e si comportano peggio di Berlusconi. A me questo non mi sta bene. Allora, parliamo di voi però adesso del vostro programma. Le faccio ascoltare un banchiere, un banchiere importante, un banchiere serio, che si chiama Lorenzo Binismaghi. Lorenzo Binismaghi che parla dell'euro e della ipotesi di un'uscita dall'euro. Sentiamolo, lo ha intervistato Alessandra Buccini. Luigi Nemaio ha dichiarato che se si dovesse arrivare al referendum io voterei per l'uscita dall'euro. Vuol dire sostanzialmente da un giorno all'altro cambiare risparmi dall'euro a una lira potenziale, vuol dire molto probabilmente perdere il 10, 20, 30% del valore in un giorno. Penso che gran parte dei risparmiatori prima del referendum cercherebbero di proteggere i loro risparmi portandoli all'estero, come si è visto e è successo in Grecia. Dunque questo comporterebbe il tracollo del sistema finanziario. Un referendum, quello l'ha capito anche Salvini, non è molto responsabile oggettivamente come proposta. Ecco, siete pronti ad affrontare uno scenario come questo in caso di referendum consultivo che lei ha detto è un'extrema razio, no? Se l'Europa non ascolterà le nostre richieste. Però è sempre un'extrema razio. Cioè, quello che dice Dini Smaghi fa paura, no? Io però ho anche il dovere di spiegare per filo e per segno quello che è una nostra strategia fondamentalmente. Io sempre negli ultimi anni ho ascoltato tante critiche all'Unione Europea, a una serie di trattati, da parte tra l'altro di coloro che questi trattati li hanno firmati, perché non l'ho firmato più il Fiscal Compact. È una serie di trattati che colpiscono imprese, famiglie, pensionati e nello specifico l'economia italiana. È nostro dovere, anche diritto, salvaguardare l'interesse generale e quindi andare in Europa, oltretutto sfruttando questo momento in cui la Merkel è più debole rispetto agli ultimi anni e in cui ci sono tanti partiti tradizionali che hanno fatto le fortune dell'Europa dell'austerità che sono in crisi, penso anche al Partito Socialista in Francia. Quindi ci sono anche condizioni, secondo me, favorevoli per poter trattare il nostro dovere a andare nelle zone, nelle distanze. Cosa volete trattare? Uscire dai parti di stabilità? Una serie di parametri, il Fiscal Compact, quattrini che dobbiamo dare ogni anno all'Europa e anche per quanto ci riguarda il regolamento di Dublino in materia di immigrazione. Come fate a sapere che riuscite a ottenere questo? Non è riuscito nessuno a ottenerlo? Io ritengo che tanti governi non ci siano riusciti anche perché sono immischiati con gli stessi poteri che governano l'Unione Europea. Le faccio un esempio. Barroso, finita la sua presidenza alla Commissione Europea, è finita il Goldman Sachs, una banca privata. La stessa banca privata dalla quale proveniva sia Romano Prodi che Draghi. Io vedo che c'è un'enorme commistione tra finanze e politica. A me questo non mi sta bene perché io credo nel primato della politica sulla finanza. Scusi, Battista, è difficile immaginare per un italiano smaliziato che ha visto tutti questi governi e questi fatti che improvvisamente arrivate voi e cambia tutta l'Europa. Perché evidentemente se nessuno ci è riuscito, va bene, o sono tutti compromessi con Goldman Sachs oppure ci saranno delle difficoltà oggettive. Dei compromessi con le banche d'affari molto grandi ci sono e ho fatto nuovi cognomi. Ritengo che tanti esponenti politici negli ultimi anni non ci abbiano neppure provato perché erano interessati ad altro. Noi quantomeno vogliamo l'opportunità di provarci. Vogliamo andarci e si ricorda quando Cameron ha indetto il referendum su Brexit, Cameron era contrario tra l'altro all'uscita del Regno Unito dall'Unione Europea, però soltanto per avere indetto quel referendum è riuscito a costringere i missari dell'Unione Europea ad andare da lui a trattare delle condizioni migliori per il Regno Unito. Molti inglesi sono pentiti della Brexit, oggi i sondaggi dicono che non lo rifarebbero. Però hanno votato. Il concetto relativo appunto al referendum che è un referendum consultivo, tra l'altro non facile da fare perché per istituire un referendum consultivo, quindi chiedere l'opinione ai cittadini italiani in materia di moneta unica, occorre l'approvazione di una legge costituzionale che prevede quattro passaggi, due alla Camera e due al Senato. Noi abbiamo anche raccolto quelle firme anni fa per questa legge appunto di rango costituzionale. Per quanto riguarda appunto il referendum, le dicevo che è un'arma politica per aprire una trattativa e far capire che occorre finalmente ascoltare l'Italia, perché l'Italia era una delle prime economie a livello mondiale. D'accordo, però lo diceva pure Renzi che bisogna battere i pugni sul tavolo. Certo, però Renzi, Formigli, però io non è che posso rispondere dei fallimenti altrui. Io sono del Movimento 5 Stelle proprio perché ho notato dei fallimenti e mi sono candidato con il Movimento 5 Stelle, però un'opportunità la vogliamo. D'accordo, dice questa è una nostra arma, però io voglio chiedere, ma lei crede che le condizioni attuali degli italiani sotto le regole dell'Europa così come sono adesso, sono comunque peggiori rispetto a quelle che avremo uscendo dall'Euro. Cioè, se tutto rimane così com'è per gli italiani, meglio uscire dall'Euro? Cioè, se fallisce il vostro tentativo di cambiare le regole sull'austerity, è meglio uscire dall'Euro che stare come stiamo ora? Nei prossimi anni entreranno però in vigore alcuni trattati, tra cui il fiscal compact in maniera maggiore, che presuppongono miliardi e miliardi di denari pubblici dati appunto all'Unione Europea per una serie di meccanismi. Per cui bisogna anche considerare quel che potrebbe avvenire nei prossimi anni relativamente al taglio, allo smantellamento dello Stato sociale, il taglio ancora di più delle pensioni e gli interventi sulla sanità e l'istruzione pubblica, che per noi non sono business o merci ma sono diritti appunto sanciti dalla Costituzione. E' questo il ragionamento da fare. Io ritengo che negli ultimi anni l'Unione Europea abbia messo in bocca sul prezzo della feta in Grecia o sull'età per i pensionati italiani, dimenticandosi quelli che sono i diritti dello Stato sociale. E lei fa spesso una battaglia anche relativa alla xenofobia, a tutto ciò che è nato negli ultimi anni. Tra l'altro io ritengo che se in Italia non vi sia un partito xenofobo, forte come in altri paesi europei, sia anche molto grazie al Movimento 5 Stelle che è riuscita ad incanalare una giusta e io dico anche condivisibile rabbia degli italiani in un percorso di democrazia e partecipazione. Fate una legge suoi ussoli così. Aiutate il PD a farlo. A parte il fatto che non l'hanno messa neanche in calendario come le salle. Però voi vi siete dichiarati contrari. Invece il Biotestamento ce l'avete fatto insieme. La posizione sul Biotestamento. Non la considerate una legge giusta. Io credo appunto che la questione relativa alla cittadinanza debba essere affrontata in ambito europeo. Per quello ci siamo astenuti alla Camera. Poi faccio anche un discorso politico. Per me i diritti civili e politici sono molto importanti. Infatti abbiamo votato il Biotestamento. Tra l'altro l'iniziativa di quella legge viene dal Movimento 5 Stelle, i miei colleghi Giordano e Mantero. Io però noto che negli ultimi anni si sono dimenticati dei diritti economici e sociali. Un paese non funziona se vi sono soltanto diritti civili e politici senza diritti economici e sociali. Abrogherete la Fornero? Assolutamente sì. Ma abrogare la Fornero così com'è ci riporta diciamo al 2011 si va in pensione a 60 anni con 36 anni di contributi. Chiaramente non ho detto che per abrogarla devi per forza tornare indietro to cure. ho detto e ritengo appunto che costringere i cittadini italiani ad andare in pensione da 67 anni in su non soltanto è una violenza nei confronti di tanti cittadini che hanno 40-41 anni di lavoro o anche lavori come dire molto molto complicati, usuranti ma anche impedisce a tanti giovani di entrare nel mercato del lavoro. Però diciamo la connessione diretta non c'è ma soprattutto i 10 miliardi di euro. Io sono convinto formigli che vi sia che tanti cittadini giovani che non riescono a entrare nel mercato del lavoro appunto stiano fuggendo. Ci dicono un po' i dati ma insomma i 10 miliardi che ci garantisce la Fornero ogni anno almeno 10 miliardi di euro dove li andate a prendere? E rispetto alla... E non li dica dalle pensioni d'oro perché non basta. No, io non le dico soltanto dalla pensioni d'oro. Noi non abbiamo mai avuto in mano il bilancio dello Stato. Io negli ultimi 5 anni ho visto denari utilizzati per TAV, per iniziare i lavori preparatori sul ponte sullo stretto, per una serie di opere inutili per noi, opere infrastrutturali inutili e noi vogliamo delle opere infrastrutturali. Io ho notato appunto questo, che i soldi in un paese ci sono. Tanto è vero Gentiloni trovò a proposito di banche in 14 minuti Consiglio dei Ministri 20 miliardi a debito appunto per salvare le banche che lo stesso sistema dei partiti e di qualche banchiera va massacrata. Le coperture finanziarie relativamente appunto a una serie di misure che vogliamo fare le troveremo anche con alcune leggi. Senz'altro si può intervenire su pensioni d'oro vitalissimi per recuperare dei milioni di euro. Però mi dica, posso dirle una cosa? Qua io le ho portate. Mi dica, perché la sensazione quando andate a parlare delle cifre è che non quagliate mai bene, cioè che non tornino mai questi conti dei 5 stelle sui numeri. Io sono anche contento, io spero che un giorno Berlusconi venga anche nel suo studio. Dico sempre la disparità, parlo sempre la disparità di trattamento. Veniamo noi in televisione, giustamente ci fate il fele contro pelo, Berlusconi va, agita i fogli. Devo capire quel che c'è. Quando verrà Berlusconi sia tranquillo che glielo faremo. Io qui le ho portate una serie di coperture in materia di reddito di cittadinanza. Come lei sa il reddito di cittadinanza permette anche l'aumento delle pensioni minime per coloro che guadagnano sotto alle 780 euro di pensioni minime in questo paese e queste sono delle coperture. Ciò nonostante, io le sto dicendo, che si può intervenire anche con determinati leggi. Una legge sul conflitto di interessi crea posti di lavoro e chiaramente se rigira l'economia e tanti più cittadini lavorano ci saranno dei cittadini che pagano maggiormente le pensioni. Una legge anticorruzione, è questo che teme soprattutto Berlusconi perché teme che gli svuoteremo il partito, consente anche di ottenere tanti risparmi. Si fanno cifre in merito alla corruzione, formigli chi dice 50, 60, 40 miliardi di euro all'anno. Io non lo so esattamente che ci sono tanti studi. So che intervenire contro la corruzione presuppone dei risparmi da parte di un governo che noi evidentemente vorremmo dare. Però bisogna essere chiari su una cosa. Allora, è chiaro che se tu tagli anche del 20% le pensioni di 5 mila euro al mese nette guadagnerai 100-200 milioni l'anno. Non bastano per coprire quei 10 miliardi da Fornero. Allora, per esempio, voi avete con 5 miliardi pensate di recuperare dai tax expenditures, cioè dalla riduzione dei vantaggi fiscali, degli sgravi fiscali. Sono 5 miliardi che vorreste mettere sul reddito di cittadinanza. Però allora bisogna avere il coraggio di dire aumenteremo le tasse perché tagliare quei benefici fiscali significa aumentare le tasse per certe categorie. Siete pronti a dire agli italiani noi aumenteremo le tasse di certe categorie per finanziare il reddito di cittadinanza? Come vede, ecco qua, seconda copertura, aumento tassazione banca e assicurazione oppure, altra copertura, aumento della tassazione sul gioco d'azzardo. Anche sui cittadini, eh? Perché, sa, se lei toglie i benefici fiscali vuol dire che aumenta le tasse. Io ritengo che si possa intervenire appunto su queste categorie, come le onde. E queste fanno parte delle coperture. Perché io non mi dimentico che anni fa vennero abbonate una serie di tasse che devono pagare le concessionarie di gioco d'azzardo. Tra l'altro per me il gioco d'azzardo è la tassa sui disperati. E quindi è qualcosa di profondamente ingiusto. E noi vogliamo intervenire. Come le sto dicendo, alcune tasse verranno aumentate. Ma, dato che Berlusconi può fare a campagna su sta frase, già lo anticipo. Però mi scusi. Tassazione sul gioco d'azzardo e tassazione su banca e assicurazione. È possibile farlo. Allora, reddito di cittadinanza. Tasse, diciamo, più eque sulle imprese. Ridiscussioni di determinati parametri. Le pensioni. Ma questo è il paese del Bengodi, mi scusi però. Cioè, tutto non si può fare. Capito? La mia sensazione è questa. Che voi per ottenere una cosa dovete rinunciare un'altra. Adesso facciamo, diciamo, campagna elettorale, diciamo tutto questo. Se no, sembra il paese dei balocchi. Sarò molto onesto con i cittadini. Governare questo paese sarà estremamente complicato. E riuscire ad approvare determinate leggi, che tanti, per me non ci hanno mai provato, perché una vera legge anticorruzione sul conflitto interessi non è mai stata fatta. E ricordo sempre che appena l'Europa ha chiamato negli ultimi anni, si sono messi sull'attento i Berlusconi, Bersani e Meloni che hanno votato la legge forna. Sto parlando di quattrini. Vedi che stiamo parlando anche di copertura. Io sto dicendo che non sarà una cosa facile, che ci saranno mesi senz'altro difficili qualora dovessimo andare al governo. Nessuno lo nega. Ma abbiamo soprattutto la libertà per intervenire su una serie di sacche di potere, e già le ho indicate, banche, assicurazioni, gioco d'azzardo, per ottenere quei denari per darli alle persone che ne hanno maggiormente bisogno. 15 miliardi l'anno il reddito di cittadinanza? Quanti miliardi diamo anche all'Unione Europea? Quanti riusciamo poi? Quanti ce ne tornano indietro? Quanti parametri appunto ci hanno colpito incatenando la nostra economia? Questo però è il senso della politica. È un po' salviniano questo suo ragionamento. Prima Renziano, poi Salvini, poi vicino a Berlusconi. Adesso un po' salviniano. Io so che Salvini ha governato, la Lega ha governato con Berlusconi. E so che Salvini, che lei dice facciamo i discorsi salviniani, è uno che un giorno sia l'altro pure critica la legge Fornero. A onore del vero, perché mi va di essere onesto intellettualmente, la Lega non ha votato la legge Fornero. Però si allea con Meloni e Berlusconi che l'hanno votata. Cioè si allea con due soggetti politici che hanno votato quella legge e grazie ai loro voti è diventata legge dello Stato. Non sono sicuro che Giorgia Meloni in persona abbia votato la legge Fornero? Sì, sono sicuro, faceva parte del governo Berlusconi. Faremo un controllo su questo. Senta, ma le piace la riforma fiscale di Donald Trump? Donald Trump ha messo un tetto massimo di imposizione fiscale alle imprese del 21%. Prima era il 35%, quindi un abbattimento pazzesco. Tant'è vero che Di Maio è tornato dall'America, insomma dicendo, serve anche a noi un'operazione shock così? Senz'altro serve anche a noi una riduzione delle tasse. Il mio papà è un piccolo imprenditore, lavora nel settore della ceramica, del Viterbese. Io tra l'altro non ho mai chiamato pezzi grossi di banche o assicurazioni per dare una mano alle imprese di mio padre che vive le stesse difficoltà di tante altre imprese. E la tassazione sulle piccole e medie imprese è veramente vergognosa. Ma ridurre così le tasse e così fortemente per le imprese non può generare disuguaglianze? Quello bisogna chiederlo ai cittadini americani, vedere come sta il loro Stato sociale. A me onestamente uno Stato sociale che non garantisce adeguatamente istruzione pubblica e sanità pubblica non mi piace. Ma questa è la visione, sono un cittadino, un parlamentare pubblica italiana e non del congresso statunitense. Posso però nel vero dire, rapidissimo, che gli Stati Uniti d'America credo che siano un paese che ha il maggior debito pubblico a livello mondiale. Noi credo il terzo, posso anche sbagliare. Però nessuno gli dice nulla agli Stati Uniti d'America, mentre invece noi dobbiamo sempre pagare debito, debito, debito fatto da qualcun altro. Altrimenti entriamo nel regime delle sanzioni. La Francia e la Spagna che hanno sforato sono sotto sanzione, sotto procedimento di infrazione. Il governo 5 Stelle si insedia e affronta subito i procedimenti di infrazione dell'Europa? È questo l'obiettivo? Non ho detto questo. L'obiettivo appunto del governo del Movimento 5 Stelle è aumentare la qualità della vita dei cittadini, approvare delle regie che non sono mai state approvate. e senz'altro far capire all'Europa che quel che conta è la politica, i diritti dei cittadini, lo Stato sociale, altrimenti ci ritroveremo veramente partiti xenofobi. Per fare tutto questo ci vogliono i voti in Parlamento. Ammettiamo che i 5 Stelle siano il partito di maggioranza relativa, ammettiamo che questo accada. Che cosa farete esattamente? Lo ripeta. Io credo che se riuscissimo ad azzeccare una grande campagna elettorale, io non vedo l'ora di farla, tra l'altro da non candidato, questa forse è una cosa originale, però girerò l'Italia, vedremo come, farò qualcosa come quell'estate 2016 che fu secondo me anche importante per il referendum, e io credo che l'obiettivo 40% sia alla portata del Movimento 5 Stelle. Ci spero e lavorerò per questo. Adesso siete intorno al... tra il 27 e il 28, insomma... Senza altro. Io credo che sia alla nostra portata. Vedo che ogni giorno in più che la Boschi passa bullonata a quella poltrona, al PD crolla. Però diciamo che realisticamente prendete più degli altri, ma non prendete il 40%. Ok, in quel caso, ritengo, poi non è che decido per il Presidente della Repubblica, il Presidente della Repubblica affiderà l'incarico all'U.G. Di Maio. L'U.G. Di Maio si presenterà di fronte alle Camere con un programma che prevede l'abolizione di Equitalia, l'abolizione della legge Fornero, la legge anticorruzione, una legge sul conflitto di interesse, una creazione, si può fare, questo c'è in Germania, non è populista, di una banca pubblica di investimenti per dare quattrini alle imprese, perché secondo noi il credito anche deve essere gestito a livello statale, e per quanto riguarda la fiducia, chiederemo la fiducia al Parlamento. A tutti quanti, Formigli, io credo che una possibilità ci sarà. Poi io vorrei anche che il Parlamento, nella prossima legislatura, possa fare il Parlamento, perché noi, fino a prova contraria, Formigli siamo una Repubblica parlamentare. Le leggi le dovrebbero fare il Parlamento e il Governo, appunto, dovrebbe fare l'esecutivo. Noi presenteremo una proposta di Governo e poi il Parlamento dovrà fare il Parlamento ascoltando tutte le voci politiche differenti. Secondo me questa è democrazia. Negli ultimi anni il Parlamento è stata maggioranza del PD, che ce l'ha avuta grazie a un premio maggioranza incostituzionale del Porcellum, appunto, bocciato dalla consulta, che grazie ad una truffa e danni di cittadini ha approvato delle leggi che sono state truffaldine, appunto, a danno di cittadini. La stampa ha pubblicato una notizia in prima pagina che Di Maio sarebbe dichiarato disponibile, sarebbe pensando ad un'alleanza, al limite anche con il Partito Democratico, purché non ci sia Renzi a guidarlo. Questa, per essere chiaro, è una stronzata della stampa. Ecco, questo qui è... Sì, ma di fake news ne scrivono tanti. Il giorno siamo salviniani perché vogliamo togliere le sanzioni della Russia che colpiscono più le imprese italiane che la Russia. Il giorno dopo siamo, non lo so, di sinistra perché vogliamo rintrodurre l'articolo 18 dello Stato del Laboratorio. Quindi mi faccio capire, voi prendete i voti di tutti sulle vostre leggi ma il governo lo fate solo con uomini scelti da voi? Noi non tratterete... Non tratterete neanche per un ministro, neanche per un sottosegretario? Noi presenteremo una squadra di governo che sarà un'espressione non del Movimento 5 Stelle ma ritengo delle migliori espressioni che escono fuori dalla cittadinanza e, diciamo, dalla pubblica opinione. E su questa squadra di governo, su un programma che poi vedrete che verrà ampiamente condiviso perché poi se andate a leggere le proposte di tutti i partiti politici spesso sono molto simili Io sono convinto che possa iniziare Per esempio proporrete la reintroduzione dell'articolo 18? Per esempio la proporrete? Sì, come era prima però cioè articolo 18 per le imprese sopra i 15 dipendenti. Lei proprio citando l'articolo 18 mi permette di far capire il perché anche di questa ormai che c'è quasi assurdità di ragionamenti su destra e sinistra. Pensi che in questo paese fa la rovescia e cui Italia l'ha creata Berlusconi, quello della riforma liberale. E l'articolo 18 l'hanno aboliti gli eredi del partito di Berlinguer. Ecco, lei lo rimetterebbe e questo farà felice Piero Grasso magari il Movimento Liberi è uguale Ma non me ne frega niente questo farà felici i lavoratori perché c'è un precariato totale Eliminerebbe il bonus degli 80 euro che ormai è una forma di misura stabile introdotta al governo Rezzi Noi abbiamo un pacchetto tra l'altro che presenteremo nelle prossime settimane relative appunto agli sgravi fiscali sul lavoro che secondo noi anche dove c'è anche senza altro il reddito di cittadinanza una serie di misure straordinarie per le imprese che in un certo senso appunto amplia gli 80 euro Io credo che gli 80 euro siano stati una mancetta elettorale tra l'altro scadente Ma li perrete o no? Come le sto dicendo non abbiamo mai detto che aboliremmo gli 80 euro abbiamo in generale votato contro Questa è una notizia però No, questa già l'ha detta Luigi Di Maio ma non perché abbiamo ritenuto non l'abbiamo mai ritenute le misure economiche in generale di Renzi compresi gli 80 euro sufficienti per affrontare la crisi Però una cosa buona Renzi l'ha fatta La cosa migliore secondo me che ha fatto il Partito Democratico in questi anni è la legge sugli ecoreati tra l'altro firmata anche da un mio collega Salvatore Micillo Questa è stata una legge che noi abbiamo votato insieme al Partito Democratico Senta, due cose rapidamente ma se voi avete questo incarico avrete questo incarico del Presidente della Repubblica proporrete un Presidente della Camera che è sempre diciamo espressione 5 stelle o che cercherà di essere invece un punto di incontro con altre forze politiche Io non ci ho pensato a questa cosa e non ci abbiamo ancora pensato perché siamo chiaramente in campagna elettorale l'idea di prendere la maggioranza Io posso esprimere una mia opinione da cittadino A me piaceva quando nella Prima Repubblica non sto facendogli elogio della Prima Repubblica comunque la Presidenza della Camera appunto veniva affidata a partiti all'opposizione Poi è stato stravolto tutto se non sbaglio dal 94 da Berlusconi che affidò la Presidenza alla come si chiama la Presidente leghista alla Pivetti esattamente e successivamente spesso la Presidenza è stata data appunto a partiti di maggioranza Io ho sempre pensato che questo fosse sbagliato il Movimento 5 Stelle per esempio aveva tutto il diritto di avere la Presidenza della Camera che invece è stata affidata fondamentalmente Quindi voi la proporrete all'opposizione a lei piacerebbe proporla a qualcuno a me piacerebbe fare questo per la Presidenza della Camera perché mi sembra qualcosa di più che sacrosanto di tutela diciamo di tutte le opposizioni io sono opposizione adesso e ho visto che l'opposizione nel Movimento 5 Stelle non è mai stata tutelata quando abbiamo fatto azioni parlamentari per far cadere quello sceno decreto su banche d'Italia che regalava denari dei cittadini alle banche private la Bolderini ci mise la ghigliottina mai successa nella storia per azzittire l'opposizione ecco le sto dando un messaggio le opposizioni e lo dico qualora dovessimo andare al governo del paese dovranno essere tutelate anche dalla maggioranza senta suo figlio Andrea è nato la Iotti era una grande Presidente della Camera non c'è dubbio eppure era del Partito Comunista che era un partito avversario della democrazia cristiana del pentapartito che era il governo del paese senta suo figlio Andrea è nato da poco lei pensa che Roma sia una città giusta per oggi per far crescere un figlio? le piace? a me Roma piace tanto nonostante un sacco di problemi che ha la trovo una città splendida stimolante estremamente interessante al punto di vista culturale storico per cui mi piacerebbe sensato come la vede oggi? in che situazione è? il Movimento 5 Stelle questa è la verità la dico proprio in maniera molto onesta se Roma non non avesse avuto quasi 15 miliardi di euro di debiti probabilmente il Movimento 5 Stelle non avrebbe preso tutti quei voti questa è la verità ma il Movimento Formiglia è nato senz'altro anche per i fallimenti ma la trova una città vivibile oggi? è una città con tanti problemi è una città che ti garantisce anche delle cose importanti una vita secondo me culturale e sociale davvero importante la vede migliorata oggettivamente nell'ultimo anno? io vorrei giudicare Roma dato che il Movimento 5 Stelle sta amministrando da un anno e mezzo al termine di una consigliatura io credo che tutte le forze politiche abbiano il diritto di essere giudicati al termine di un mandato senta ma se Roma ha bisogno di un grande piano di rilancio ha bisogno di un'amministrazione che abbia diciamo una progettualità perché Virginia Raggi ha già detto che non si ricandiderà non è in qualche maniera un segnale di resa troppo anticipato? la notizia sarebbe stata il contrario se Virginia Raggi avesse detto io mi ricandiderò perché non può farlo non lo può fare ma era il caso di dirlo adesso non è se non avessi risposto le avrebbero detto perché non rispondi tanto qualsiasi cosa fa Virginia Raggi viene crocifissima senta a che punto è la vostra lista dei ministri ce ne avete qualcuno pronto? questo dovete onestamente chiedere al nostro candidato Luigi Di Maio perché questa è una sua responsabilità lei farà mai il ministro nel prossimo governo lo esclude? nel prossimo governo sì l'escludo ho chiesto io personalmente a Luigi di non inserirmi in quella lista perché ho preso una decisione di vita quindi non solo non farà il parlamentare ma non farà il ministro della Repubblica come ho detto come ho dichiarato al termine della campagna elettorale quindi quando inizierà la prossima legislatura io continuerò a sostenere il movimento e la politica italiana fuori dal palazzo ma tornerò al mio mestiere è quello che voglio fare e sono contento di tornare a farlo grazie a lei grazie a lei auguri di buone feste grazie a lei